Purtroppo, dalla riapertura dell'ospedale di Agropoli, avvenuta nelle scorse settimane, non c'è stato molto di positivo nelle vicissitudini legate al nosocomio. Le denunce sull'operato nel presidio ospedaliero sono state numerose e hanno tutte in comune l'attuale stato di inefficienza e di impreparazione della struttura di accogliere pazienti e di fornire cure adeguate, nonostante la presenza completa del personale, molti dei quali presenti all'interno della struttura anche in Alpi, cosa che rende i costi di mantenimento ancora più alti. Una delle ultime vicende riguardanti la mancanza di un adeguato soccorso nella struttura è accaduto negli scorsi giorni ad un'anziana cittadina con problemi cardiaci, recatasi all'ospedale con forti dolori addominali, nessuna cura fornita sul luogo, semplicemente dei medicinali consegnati al familiare da somministrare all'anziana e nessuna visita domiciliare del personale presente nella guardia medica. In città si è discusso molto anche del caso dell'anziano ricoverato con un tumore nel reparto di medicina dell'ospedale civile, purtroppo in condizioni terminali. All'aggravarsi delle sue condizioni è stato trasportato al San Luca con un'ambulanza proveniente direttamente da Vallo della Lucania e non con una a disposizione del 118 ad Agropoli. Sulla vicenda c'è però da precisare che i trasferimenti interni al distretto sanitario Vallo-Agropoli vengono fatti con le ambulanze ospedaliere al fine di non sguarnire il personale della rianimativa 118. L'ospedale agropolese ad ora è completo con tanto di personale, rianimazione, radiologia, laboratori e sale operative funzionali. Manca solo il cardiologo, ma nonostante ciò non vengono forniti i servizi.